E anche oggi sono in giro di concessionaria in concessionaria con la mia automobile. Ho qualche minuto a disposizione e come sempre mi rendo conto guardando la mia automobile, che per me è il mio ufficio viaggiante, che è veramente lurida, è veramente sporca, piena di polvere, un po' il cane, un po' il bambino, un po' la gita fuori porta, insomma è ora di fare un ottimo lavaggio della mia auto. E mi trovo in via Race Romuli 215, mi hanno detto che ha aperto un nuovo autolavaggio. E allora venite con me e testiamo il loro ottimo servizio. Da New Max Autolavaggio lavi la tua automobile a partire da soltanto 6 euro per un lavaggio veramente completo. Da New Max la tua automobile viene curata nei minimi particolari. 5 persone esperte per pulire al meglio la vostra automobile. La pulizia dei cristalli, le plastiche e le battute, l'aspirazione dei sedili, pulizia mochette e tappetini, gomme e cerchi e Max dà il controllo finale. In via Race Romuli 215 a Torino c'è il New Max Autolavaggio. La tua auto lavata, pulita, in soli 5 minuti. La tua radio è iniziata in veniva alti Стelmanseat, in soli 5 minuti. Hai comprato un'automobile d'occasione? Vuoi sanificarla? Nessun problema! Qui, presso l'autolavaggio New Max, è possibile sanificare completamente la tua automobile. Igenizzazione dell'abitacolo, lavaggio mochette e sedili con qualsiasi tipologia di tessuto, lucidatura, rinnovo paraurti a partire da soltanto 50 euro. Qui da New Max, la tua automobile lavata, pulita e curata nei minimi dettagli a partire da soltanto 6 euro. Da New Max Autolavaggio, lavi la tua automobile a partire da soltanto 6 euro per un lavaggio veramente completo. Da New Max, la tua automobile viene curata nei minimi particolari. Cinque persone esperte per pulire al meglio la vostra automobile. La pulizia dei cristalli, le plastiche e le battute, l'aspirazione dei sedili, pulizia mochette e tappetini, gomme e cerchi e Max dà il controllo finale. In via Race Romoli 215 a Torino c'è il New Max Autolavaggio, la tua auto lavata, pulita in soli 5 minuti. In via Race Romoli 215 a Torino c'è il New Max Autolavaggio, la tua automobile a partire da soltanto 6 euro. Ecco Daniel, la tua macchina è pronta, vai! Grazie Max, ma è incredibile, in soli 5 minuti mi hanno lavato la macchina dentro e fuori. È come nuova! Incredibile, grazie Max! Ciao! Wow, tutto pulito! E questa? Ma è incredibile! Mi hanno regalato anche una rosa per mia moglie. Tutto questo in via Race Romoli 215 a Torino, presso New Max Autolavaggio. Io l'ho provato, provatelo anche voi! Hai comprato un'automobile d'occasione? Vuoi sanificarla? Nessun problema! Qui, presso l'autolavaggio New Max, è possibile sanificare completamente la tua automobile. Igenizzazione dell'abitacolo, lavaggio mochette e sedili con qualsiasi tipologia di tessuto, lucidatura, rinnovo paraurti a partire da soltanto 50 euro. Qui da New Max, la tua automobile lavata, pulita e curata nei minimi dettagli a partire da soltanto 6 euro.